Il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro, sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio, è stata dura, la partita è sempre stata in bilico, alla fine però sorridono loro. Qual è la tua analisi di questa gara Luca? Far coincidere il primo gol fuori casa con una vittoria non era un'impresa semplicissima, soprattutto in una gara complicata come quella di oggi. È finito il tempo a nostra disposizione, grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È stato un grande piacere. Grazie 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 Grazie